Siamo a Piano Sinatico, al museo dell'altro capo del Caposaldo. Oggi si inaugura opere di riqualificazione e valorizzazione dell'edificio. Progetto cofinanziato dalla FEAS GAL Montagna Appennino. Si tratta tra l'altro del primo bando che ha visto la collaborazione tra il GAL e la Fondazione Cassa di Risparmio. Questa collaborazione ha consentito di poter realizzare l'intervento con un finanziamento al 100%. Quindi si è trattato di una sperimentazione che abbiamo avviato come GAL insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio che ha dato la possibilità a chi ha partecipato ed è stato finanziato di aver avuto una copertura totale di tutto l'intervento. Un percorso che speriamo di poter continuare anche in futuro per dare la possibilità non solo agli enti pubblici ma soprattutto alle associazioni locali di poter fare degli interventi senza sostenere costi che vanno a incidere sulle loro attività e sulle loro associazioni. Vi invitiamo comunque a visitarlo anche durante quest'inverno che magari la stagione è un po' più morta ma noi comunque vi offriamo un servizio per poter visitare il nostro museo che comunque offre sempre qualcosa di nuovo. Siamo aperti durante sempre il sabato e la domenica quindi tutti i festivi e facciamo anche tutte le vacanze di Natale quindi insomma siamo l'8 dicembre e faremo anche il ponte quindi potrete venire a visitare il nostro museo. Potete visitare comunque anche l'albero della pace anche se c'è la neve è una passeggiata tutta a pari ci vuole 5 minuti andare 5 a tornare e insomma merita, è una passeggiata che merita. Per quanto riguarda percorsi con la neve se volete insomma si possono visitare però comunque con prudenza ecco. Grazie.